Ho delle domande per te. Non sei occupata, vero? Ha visto ammazzare la sua famiglia e mandare a spasso i colpevoli fa... È tornata. Ti ricordi di me? Prezziotti venduti, giudici corrotti. Vi ucciderò una dopo l'altra. E poi qualcosa mi inventerò. Peppermint, l'angelo della vendetta. Dal 21 marzo al cinema.